Siete tristi e soli, vi sentite persi e spesati, siete preoccupati e non sapete nemmeno il perché, i vostri piedi vagano da soli nella notte, non datevi al gioco d'azzardo, non leggete le iscrizioni in latino che trovate in giro, la soluzione c'è, è Opinione di Luzio. Opinione di Luzio, l'opinione che ti cambia la vita.